Rappresenterà la Svizzera italiana al festival per giovani cineasti più grande al mondo, Simone Giampaolo, 21 anni, studente di animazione digitale, nato e cresciuto a Vacallo. Un cartone animato di pochi minuti, realizzato dal giovane ticinese, sarà infatti proiettato quest'oggi al National Film Festival for Salented Youth di Seattle, che ha aperto le danze giovedì scorso e che ospita 200 realizzazioni provenienti da oltre 40 paesi. Per sapere come un debuttante nel mondo del cinema viva questa enorme opportunità, abbiamo chiesto Simone di darci alcune impressioni direttamente da Seattle. Questo festival, devo ammettere che non è ciò che mi aspettavo, è molto molto di più. Il benvenuto ieri è stato molto caloroso nei confronti di tutti i filmmakers. Siamo stati accolti con red carpets, con il tappeto rosso, foto, interviste e abbiamo passato la prima notte di gala sulla torre simbolo di Seattle. È stato molto molto emozionante. Ma cosa si prova a rappresentare una piccola realtà come quella della Svizzera e addirittura del Ticino negli Stati Uniti? È una bella sensazione rendersi conto che si è l'unico rappresentante della propria patria e della propria nazione. Mi rende molto fiero e spero che l'audience americano potrà apprezzare il mio film. E infine qualche consiglio per i giovani che sognano Hollywood. Il consiglio numero uno che darei è proprio quello di buttarsi, annullare definitivamente la timidezza e la paura di sbagliare. Soltanto provare. L'America non è così lontana, è così irraggiungibile come si pensa.